La voce interiore attraverso Roberta S. Santa Maria delle Mole, 9 dicembre 2008, a cura di Vubbi, guide. La vostra capacità di donare anche ciò che a volte vi sembra di non avere, vi può portare a sentirvi più vicini a voi stessi, perché voi non siete fatti di solo ego, non siete fatti di sola gratificazione personale. E non vivete soltanto per soddisfare i vostri bisogni, siano questi intellettuali, spirituali o materiali. Il vostro bisogno più intrinseco è quello di trovare il vostro amore, e non troverete l'amore prendendo nozioni, afferrando concetti altamente spirituali, ma lo troverete donando ciò che siete, quello che potete, quello che vi sentite, perché la vostra capacità di donare vi può anche far capire chi siete veramente, vi può mostrare la vostra essenza nella sua luce più totale. Allora, piuttosto che chiedervi cosa vi fa stare più sereni, cosa vi fa stare tranquilli, iniziate a domandarvi cosa potete donare e a chi, perché ovviamente noi non vi diciamo di donare a chi non è pronto a recepire il vostro dono, anche se vi diciamo nello stesso tempo che non sta neanche a voi giudicare più di tanto chi è pronto e chi non è pronto. Sarà la vostra spontaneità il vostro input volto a dirvi di donare che di volta in volta vi segnalerà le persone verso cui dirigervi. Allora, ogni volta che sentite un impulso positivo nei confronti di qualcuno, non lo sopprimete perché la vostra mente vi suggerisce di farlo, ma assecondatelo e seguite tutto ciò che di più allegro e solare vi viene di dare, sia anche un sorriso, sia anche una parola ironica, ossia la capacità di abbracciare e di donare la vostra forza interiore. Non ci sono altre strade da seguire, perché i segreti dell'universo non vi possono essere raccontati se non trovate il contatto con l'universo. È come raccontare una storia a chi non vive in quella storia. Noi vi diciamo che voi siete quella storia e che potete viverla tutta senza segreti e senza remore. Continua.